Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore del steam-ab64.dll il file mancante che manca nella cartella di windows, ovviamente in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina per scaricare il file dll quindi questo qua è il sito dllfiles.com, qui puoi scaricare tutti i file dll mancanti nel tuo sistema operativo quindi se vai su questo sito scrivi il tuo file steam-ab64.dll ed eccolo qua, ovviamente io lo scarico per il mio sistema operativo a 64 bit e faccio scarica lo salvo sul desktop e me lo salva come pacchetto RAR, tasto destro sopra, in RAR, extract to steam-ab64.dll ovviamente questo pacchetto va estratto, questo è un pacchetto zip, pacchetto RAR e va estratto con il programma win-rar ecco la cartella, ci clicchi sopra ed ecco il file dll, ovviamente prendi questo file dll andiamo su questo pc, disco locale, vai su windows e andiamo a trovare la cartella size steam32 ci clicchiamo sopra, prendiamo questo file e lo mettiamo qua dentro ed eccolo qua, e l'abbiamo inserito qua dentro, se non dovesse funzionare prendi quel file dll e mettilo in quest'altra cartella size wow 64, questo è il bel sistema operativo a 64 bit e lo metti qua dentro una volta fatto riavvia il tuo sistema operativo se vi è stato utilissimo questo video iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao